Altra domanda molto interessante che ho ricevuto nelle storie questo weekend è su cui provo a darvi due indicazioni, ricordando però che io non sono un consulente finanziario né un broker. La prima, lasciate perdere tutta quella fuffa che trovate online in cui vi promettono di guadagnare senza lavorare o di generare rendite passive e cazzate del genere, perché l'unica rendita che generano è per se stessi. La seconda, se volete avere una seconda entrata all'anno senza fare un secondo lavoro, l'unico metodo che resta è quello di investire dei soldi e maturare un rendimento. In questo caso il rendimento dipende da quanto investite, da come lo investite e con quale profilo di rischio. Chiaramente più alto è il profilo di rischio, più alti sono i potenziali guadagni, ma anche i rischi di perdere tutto. Se non volete farlo da soli, quindi il mio consiglio è quello di rivolgervi a un consulente finanziario che vi affianca nel capire qual è l'investimento migliore. Oppure potete farlo tramite una piattaforma che li investe per voi, come Moneyfarm, oppure andare in banca e comprare degli strumenti finanziari, come i titoli di Stato o i BTP, che hanno un profilo di rischio molto basso, ma in questo periodo hanno un rendimento molto alto che sfiora il 4% all'anno. Se invece volete farlo da soli, online trovate tantissime possibilità, ciascuna con i propri rischi e le proprie possibilità di guadagno. Potete ad esempio investire con il Real Estate Crowdfunding per finanziare degli immobili e guadagnare un rendimento quando saranno venduti o costruiti. Potete usare il Social Lending per prestare dei soldi a dei soggetti che poi ve li restituiranno con degli interessi. Potete investire con l'Equity Crowdfunding, con cui comprare piccole quote di startup puntando sulla loro crescita futura. Oppure potete iscrivervi a una piattaforma di exchange, come Big Panda, Coinbase, Binance, dove potete comprare azioni di aziende quotate, criptovalute, metalli, materie prime e via dicendo, chiaramente in ogni caso con dei rischi e dei potenziali guadagni.